È arrivato un tuo bellissimo gol che vuol dire tanto per te? Sì, esatto, ce l'aspettavo perché ero fuori da tanto, però a parte il gol sono contento per il risultato e per me per essere rientrato. E basta, voglio dire, rientrare sempre meglio che questi gol arriveranno sempre di più. Anche perché per un giocatore stare lontano dal campo da febbraio vuol dire tanto? Sì, sicuramente difficili, però può capitare gli infortuni nel calcio, quindi ho recuperato e spero che vada sempre meglio e ho ripreso. Parliamo della partita di oggi, un successo importante anche in vista della partita di domenica della trasferta a Sanremo. Sì, importante soprattutto perché abbiamo chiuso la settimana di tre partite con la terza vittoria, quindi abbiamo fatto nove punti in una settimana e sicuramente siamo contenti di questo e chiudiamo questo capitolo qui che ci tenavamo. Poi adesso ovviamente guarderemo avanti, guardiamo alle prossime partite, quelle di domenica, ma anche a quelle dopo. Comunque cerchiamo di continuare questa striscia di vittorie e di risultati positivi. È stata una partita anche molto nervosa con anche un'espulsione in campo. Sì, è un'espulsione comunque secondo giallo, ma è una partita agonistica di calcio, non troppo nervosa diciamo. Le squadre che sicuramente saranno la vittoria, noi qui in casa cerchiamo di imporre sempre il nostro gioco e vogliamo comunque sempre ottenere risultato.